Era appena decollato da località Stella Alpina nel comune di Borso del Grappa a Semonzo, stupenda zona panoramica a quota 700 metri su Bassano, invidiata da tutti i parapendisti d'Europa, ma ieri, poco dopo le 12, si è trasformata invece in uno scenario di una brutta avventura che comunque poteva andare peggio. Un ragazzo di nazionalità tedesca di 32 anni ha sbagliato manovra in fase di decollo ed è caduto violentamente a terra procurandosi lussazione alla caviglia. Subito allertati i sanitari del SUEM 118 di Crespano che prontamente sono intervenuti sul posto. Hanno imbarellato il giovane con volontari Pedemontana, Emergenza e Soccorso Alpino di Crespano. Caricato in ambulanza, il parapendista è stato trasportato all'ospedale di Castelfranco Veneto.